Noi abbiamo partecipato a questa giornata che riteniamo importantissima perché la nostra scuola è molto sensibile ad affrontare delle tematiche che riguardano l'ecosostenibilità, il riuso, il riciclo e teniamo molto affinché i nostri alunni, le nuove generazioni, siano altrettanto sensibilizzati, a loro volta i ragazzi sono portatori di queste iniziative nelle loro famiglie, quindi quello che ci auguriamo è che arrivando a casa ci auguriamo oltretutto che già la famiglia lo faccia, però sicuramente avrà una ricaduta positiva in ambito familiare perché i ragazzi sono sensibilizzati, sono stati coinvolti sia a livello scolastico che in questa struttura, in questo impianto, quindi ci auguriamo che effettivamente come si dice e come abbiamo letto e come abbiamo ascoltato qui nel seminario che ci avete offerto, molto istruttivo e molto esaustivo, che siano sensibili di quello che è l'ambiente perché l'ambiente è veramente la nostra casa e anche se abitiamo in Italia o in Sicilia dobbiamo essere responsabili di quello che succede in qualsiasi parte del mondo, quindi questo è il proposito, questo è l'obiettivo che la scuola, la nostra in modo particolare, si pone. Alla prossima